liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città benvenuti a tutte e tutti bentornati anche oggi martedì 4 ottobre ne approfitto ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti coloro che sono nella città di bologna per la festa del patrono san petronio e anche alle persone detenute del carcere d'ozza di bologna saluto sempre qui con me antonella cortese ciao antonella ciao caterina ciao a tutti a tutti non l'ho detto ma oramai lo sapete siamo liberi dentro eduradio tv il programma che fa da ponte tra carcere e città e in questa operazione delicata di raccontare il carcere alla città e viceversa allora riprendiamo subito dalla nostra rassegna stampa e riprendiamo con una riflessione sul tema carcere che ci porta in realtà oltre oceano leggo infatti a firma di sandro libianchi sul blog la discussione perché la cura dei detenuti rende le città più sicure ecco nel 2011 le nazioni unite esprimevano un concetto davvero basilare ecco riguardo al rapporto tra persone detenute e comunità civile denunciato diceva proprio questo i detenuti sono la comunità vengono dalla comunità e ci tornano la protezione dei prigionieri è la protezione delle nostre comunità concetto bellissimo amplissimo anche e si tratta quindi di un di un principio contenuto nelle regole mandela dedicate per l'appunto all'ex presidente del sud africa che come sapete ha trascorso più di 27 anni della sua vita proprio in prigione sono state adottate nel 2015 dall'assemblea generale dell'onu dopo anni di lavoro e l'obiettivo è quello di indicare gli standard minimi delle condizioni di detenzione e puntare a livelli di tutela sempre più elevati per le persone detenute beh caterina sono concetti nobili ma diciamo anche che sono poco assimilati dal comune sentire anzi spesso sono coperti da altre frasiologie di un pensiero che di fatto è di cieca condanna che continua a esistere ed è sempre lì prendiamo e buttiamo la chiave insomma un po' questo ecco a me dici e basta uno sguardo al nostro paese quindi dall'oltreoceano ritorniamo in italia perché in una visione reale della situazione penitenziaria è necessario ricordare come le carceri siano davvero in overbooking e a dircelo è lo stesso Sandro Libianchi snocciolando qualche numero pensate che al 31 agosto di quest'anno le persone detenute presenti negli istituti penitenziari erano oltre 55.000 su una capienza regolamentare di quasi 51.000 posti di questi 17.600 circa stranieri e 2.300 circa donne con un tasso di sovraffollamento superiore al 109 per cento senza contare naturalmente che questi tassi di sovraffollamento sommati alla scarsa igiene ambientale fanno del carcere una sorta di concentrato concentratore ecco di patologie presenti nelle fasce già più emarginate della società dunque la tesi di Libianchi è che persone che vivono anche per lunghi periodi in queste situazioni sono ben lontane da quegli effetti di riabilitazione sociale ben espressi dalla nostra costituzione all'articolo 27 e che quindi rischiano di essere escluse dal processo di riconciliazione con la società dopo aver scontato il loro debito con essa senza contare tra l'altro gli effetti secondari della detenzione chi perde il lavoro chi perde i propri affetti chi è costretto ad avere una crisi nel rapporto coniugale e anche a pagare le spese legali veramente esorbitanti. Caterina il carcere diventa di scarica sociale a tutti gli effetti perché raccoglie e concentra un po' tutte quelle situazioni che sono sfuggite al controllo dei sistemi sociosanitari delle comunità urbane e crea chiaramente un'operazione socialmente molto svantaggiosa per l'economia per l'economia del paese della città e la alimenta continuamente. Esatto infatti è proprio come dici ma forse una soluzione ci sarebbe perché una recente norma del 2020 prevede nuovi strumenti di gestione sociosanitaria quali il budget di salute si tratta di un insieme di risorse economiche professionali in grado di favorire una migliore inclusione sociale della persona. Quindi questa norma si indirizza non soltanto alle persone che già godono di una buona stato di salute ma soprattutto a quelle persone portatrici di patologie fisiche o sociali come per l'appunto i detenuti. Quindi in questo modo le persone detenute potrebbero richiedere una presa in carico globale diciamo dal punto di vista sociosanitario ma in realtà quali sono i tempi se questa proposta riuscisse a passare? Diciamo che i tempi ancora non sono stabiliti perché tutti i processi sociosanitari sono di grande complessità e non sono realizzabili in tempi brevi oltretutto c'è bisogno di un tempo di modifica strutturale e anche di pensiero collettivo per arrivare a tutto questo ma già la proposta ci sarebbe e in tale sistema di presa in carico potrebbe ridurre ecco l'inefficienza del sistema accoglienza e rimpatrio nel nostro paese dell'immigrazione irregolare attraverso una solida programmazione di inserimento e di rientro. Quindi è auspicabile in questa direzione che i comuni stessi dovrebbero cominciare a prevedere delle linee di competenza riservate a questi settori permettendo l'uscita dall'invisibilità di queste persone che rientrano per l'appunto in comunità. Ma io mi fermo qui per dare la parola all'ospite di oggi vi ricordate stiamo facendo le interviste ai volontari di associazione Avoc e questa volta abbiamo il presidente dell'associazione Roberto Lolli. Ciao Roberto e benvenuto su Liberi Dentro di Radio TV ospite con noi per tutta questa settimana e da quando ti conosco sei il presidente di Avoc l'associazione che ormai il prossimo anno sono 30 anni da che esiste dalla firma del suo statuto nel 1993 ma raccontaci quali sono state le esigenze da allora fino ad oggi che hanno mosso e spinto le attività di Avoc. Come Avoc esistiamo da appunto da allora però prima ancora nella comunità del baraccano le suore a Bologna facevano, avevano cominciato a fare accoglienza, entravano per fare diciamo degli incontri personali, allora c'era ancora il carcere era ancora in centro e quindi era una struttura molto vecchia, poi dopo il carcere si è spostato alla Dossa e l'associazione Avoc nel 1993 c'era già la Dossa come struttura, quindi le prime esigenze erano quelle del vestiario, quindi aiutare i detenuti che non potevano permettersi di acquistare vestiti o comunque non avevano la famiglia che glieli potesse mandare, portare e anche gli incontri, incontri personali e gruppi Vangelo che sono istituzionali dall'origine, però Avoc non è confessionale, cioè è nata al baraccano per l'idea delle suore e di alcuni sacerdoti però è nata già da subito non confessionale, quindi prevalentemente i nostri soci ci sono alcuni che sono credenti, c'è qualche musulmano, ci sono delle persone che non sono legate da una delle religioni più note o famose, quindi questo è una cosa abbastanza importante perché fa sì che noi ci confrontiamo su dei valori che sono i valori della nostra Costituzione e da sempre, quindi questo è quello che noi facciamo. Una domanda classica che faccio di solito a tutti i volontari dell'Avoc nel corso di queste settimane, abbiamo sentito Lisabetta Guidotti, Giovanni Spina e ora proprio tu, è come nasce la tua storia all'interno di Avoc e quindi il tuo incontro col carcere? Il mio incontro col carcere è stato con l'Avoc, andai a fare un colloquio con il nostro presidente onorario Giuseppe Tiballi, il professor Tiballi e sua moglie, un primo incontro insieme a un'amica e niente, poi abbiamo cominciato pian piano questa attività all'interno del gruppo Vangelo del Penale, io da allora non ho mai smesso di farlo, allora stiamo parlando del 2004-2005 circa, quindi ho fatto i primi passi, ho partecipato alle riunioni, allora facevamo una riunione mensile nei locali del baraccano e l'associazione era un pochettino più piccola, ma soprattutto allora l'associazione si occupava solo del dentro principalmente e dei rapporti con le famiglie che è un altro degli aspetti importanti e quindi io da allora ho partecipato, ho fatto quello che ho potuto insieme agli altri volontari e poi a un certo punto il professor Tiballi mi ha costretto a questo passaggio di consegne, ho fatto parte del direttivo per diversi anni e poi dopo questo passaggio di consegne che per me non è stato facile perché non sono sicuramente, insomma sono più operativo che un professionista della mediazione o di quant'altro a livello proprio di istituzioni e tutto, però provo a fare quello che di meglio posso. Beh, un po' le abbiamo citate, ma raccontaci tu quali sono le principali attività di Avoc all'interno del carcere, quali attività svolgete e poi ci racconterai anche quelle fuori. Allora, all'interno abbiamo, come dicevo prima, nominato il vestiario e il gruppo Evangelo che sono diciamo le prime attività, quelle storicamente più vecchie, il vestiario che poi noi lo chiamiamo vestiario ma in realtà è vestiario di prodotti di igiene, cioè sappiamo che ci sono persone che non avendo famiglia o non avendo una disponibilità economica propria, quindi diciamo povere, all'interno del carcere, quindi i poveri, i più poveri dei poveri, detta proprio come va detta, non possono acquistare vestiti, non possono acquistare indumenti, non possono acquistare prodotti di igiene e quant'altro. I gruppi Evangelo erano nati proprio sul confronto, confronto tra persone, quindi erano gruppi liberi, chi voleva scendeva, chi vuole scende al gruppo Evangelo, diciamo scende o va nella saletta, a secondo del piano è tutto, ed è un confronto che viene fatto sulla parola, in questo caso sul Evangelo, ma viene fatto sulla vita, quindi si legge qualcosa per parlare di noi e di noi proprio tutti quanti, anche i nostri volontari partecipano al gruppo come una persona seduta su una segna, non sono il capo, il referente, sono una persona che viene da fuori, che ha un'altra vita, che ha fatto delle scelte o non ha fatto certi errori, però è una persona seduta in mezzo agli altri. E ai gruppi Evangelo partecipano tante persone, ci sono le persone anche lì di diverse confessioni, assolutamente. Ci sono i colloqui personali di sostegno, quindi abbiamo dei volontari che vanno sui piani, di solito cerchiamo di averli fissi, quindi non so, la tal persona o in due vanno a quel piano, in quel braccio, a fare i colloqui con le persone che hanno bisogno, che chiedono un colloquio, può essere un colloquio per dare notizie alla famiglia, può essere un colloquio perché hanno bisogno di qualche ausilio medico, perché devono comprare qualcosa, perché semplicemente hanno voglia di parlare con qualcuno. All'interno ci sono anche dei gruppi di studio, si fanno delle attività di scrittura insieme, si fanno delle attività di cucito al femminile, per esempio, dove abbiamo un laboratorio che è ripartito finalmente dopo un periodo di ferma. Quindi le attività che possono fare i volontari dipendono anche dalle loro caratteristiche. Dopo aver ascoltato Roberto Lolli, presidente dell'Avoc, torniamo in Iran, abbiamo cominciato ieri a parlare di Iran con un articolo di Chiara Cruciati e delle sollevazioni avvenute in seguito dell'uccisione della 22enne Mashamini per mano della polizia morale il 16 settembre scorso e anche di Hadith Najafi, una delle tante ragazze che stanno protestando per l'uccisione di Mashamini. Della sollevazione il manifesto ha parlato con il regista Fari Borz Kamkari, che è kurdo-iraniano, autore tra l'altro di alcuni film come I fiori di Kirkuk, Essere kurdo e del romanzo Ritorno in Iran. Ma che cosa sta succedendo veramente in Iran? Secondo il regista non è una rivolta di quelle che ormai si verificano ogni anno, l'abbiamo detto anche ieri, ma si tratta proprio di una rivoluzione. Ci sono anche dei motivi che lui ci spiega molto chiaramente. Il primo è che per la prima volta in 43 anni riguarda tutto il paese, non soltanto una sua parte, il Kurdistan o il sud-est a maggioranza araba, come nelle settimane passate. Secondo partecipano tutte le classi sociali. In passato le proteste erano invece di una piccola parte della popolazione, della piccola borghesia o delle classi più umili. Stavolta invece i partecipanti sono poveri, lavoratori, classe media, insomma un po' tutti. Terzo motivo, non ci si è mobilitati per motivi economici. Lui dice che la gente chiede libertà, non chiede soltanto pane. E poi soprattutto un elemento importante è che questa rivolta o rivoluzione è completamente fuori dal controllo di qualsiasi organizzazione interna al regime, che per anni ha mostrato invece una doppia faccia, riformisti contro conservatori. Oggi la rivolta è contro il regime, contro il regime in sé, e lo si capisce dalla, diciamo, reazione compatta di tutte le forze politiche. Bruciare il velo è bruciare la bandiera. Questo regime ha usato il velo come rappresentazione della propria ideologia e quindi effettivamente questo gesto è altamente simbolico. E la gente dice di no all'intero sistema politico del paese, alla stessa natura della Repubblica Islamica. Ecco, ma il regista spiega anche come mai ora, cioè come mai questa radice del dissenso si sia generata proprio in questo periodo di rivoluzione, per esempio ce ne sono già state nel passato, ricordiamo la rivoluzione araba del 2011, la rivoluzione dei gelsomini, ma come mai questa scintilla del dissenso proprio adesso doveva forse partire? Beh, contestualizzandolo all'Iran, il regista ci spiega che la scintilla fondamentalmente è stata la morte di Amin. Tra l'altro il suo vero nome non è Masha, ma è Gina, perché in Iran non si possono usare nomi kurdi che restano ufficiosi, diversi da quelli che poi hanno sul documento di identità. E Gina significa anche nuova vita, quindi è stato davvero un impulso molto importante per dare una nuova vita al paese. Ed è successo in questo periodo perché l'Iran sta soffocando da tempo, non è casuale, infatti negli ultimi otto anni ci sono state rivolte cicliche, ma il regime è sempre riuscito a scollegarlo tra loro, usando diversi strumenti. È il solito dividia e timpera che utilizzano molti regimi, ecco, regimi dittatoriali e queste diciamo forme particolari di controllo. Prendiamo per esempio il Kurdistan, lì le proteste ci sono dal 1979, mentre Comeini veniva portato in trionfo dalla sua ADA in Iran, i partiti kurdi avevano già coniato lo slogan Autonomia per il Kurdistan, democrazia per l'Iran. Poi con le rivolte kurde il regime spaventa gli iraniani dicendo che si tratta di indipendentisti. Con le proteste dei lavoratori il regime spaventa la classe media diciamo considerandoli degli estremisti. Ma stavolta la sollevazione è un po' diciamo la somma di tutte le sofferenze del popolo iraniano e la situazione economica tra l'altro è terribile in questo periodo. Ma lo slogan che risuona è appunto il diritto di poter scegliere per sé. Per decenni, spiega il regista, contestavano l'obbligo del velo. Molti rispondevano che non era il problema principale, era un dettaglio. Oggi invece la gente dimostra che lo è perché rappresenta la libertà individuale, la possibilità di scegliere e di quindi far valere la propria volontà. Altre volte, racconta il registra, ci rispondevano dicendo che il hijab è una caratteristica della nostra cultura. Lui dice non è così, è stato imposto dalla rivoluzione islamica che ha obbligato le donne a indossarlo. Bruciando il velo, bruciano quel mito. Ecco allora andiamo al punto centrale di questa rivolta che sta avvenendo sono le donne. Quale ruolo rivestono le donne in Iran? Allora guarda, il regista risponde che il sistema è stato disegnato proprio per marginalizzare le donne, togliendo loro ogni ruolo politico, culturale e sociale. La donna deve essere moglie, madre, deve far crescere i figli. Le donne iraniane non hanno mai accettato però questo stato di cose, sono sempre state il motore del cambiamento. Ho degli amici che sono andati in Iran e mi raccontavano che se fuori c'era tutta questa attenzione a non mostrarsi, ad indossare l'hijab all'interno delle case, le donne facevano una vita quasi normale. Ecco, questa è una rivoluzione femminile perché sono loro che organizzano la piazza, che vanno contro la pulizia, che bruciano il vero. In questo caso specifico c'è una piccola differenza che finalmente sono sostenute dagli uomini. Questa è la novità. La furbizia del regime è stata quella di creare divisioni che sono entrate anche in casa. Se crei un sistema a favore degli uomini, gli uomini diventano i rappresentanti del regime anche tra le mura domestiche. Però oggi sono sempre più schierati a fianco delle donne. In più ricordiamo i giovani. I giovani sono tantissimi, sono il 60% della popolazione iraniana con meno di 30 anni e oggi partecipano attivamente alle rivolte. le università si sono attivate per appunto partecipare a questo cambiamento perché è una fase veramente di trasformazione. Tieni presente che in genere nelle grandi città i cittadini per esempio vengono trattati in modo più morbido, ma nelle piccole città in Kurdistan vengono gestiti con la violenza. Ci sono tanti casi in cui le persone avevano anche già a partire da comeini proprio delle punizioni corporali come gli aghi in fronte o altre cose. La pulizia morale è uno strumento efficace per terrorizzare soprattutto i giovani. È davanti a ogni liceo, a ogni facoltà, controlla come ci si veste, cosa si scrive sui telefoni e ferma le auto dove ci sono uomini e donne per verificare i loro rapporti familiari. In ogni caso la protesta in corso non vuole soltanto la fine chiaramente della pulizia morale, ma anche la fine dell'intero regime. Ma mi fermo qui per passare la parola alla redazione di Ne vale la pena. La riproponiamo perché pensiamo che non si conosca mai abbastanza la storia delle persone che entrano in carcere, del lavoro che svolgono e quindi ve la riproponiamo per rinfrescare la memoria. Buongiorno ai nostri ascoltatori, ci presentiamo, siamo Chiara, Federica, Barcello, Carla e siamo il gruppo di redazione Ne vale la pena all'interno del carcere della drozza. Io sono Chiara e direi che sono la veterana del gruppo, ormai da dieci anni questa esperienza sta andando avanti e in effetti sono cresciuta, diciamo gli anni sono passati, sono cresciuta insieme all'esperienza e infatti sono diventata la zia e in carcere essere zia significa proprio essere un'istituzione, essere una persona importante e quindi così sono un po' la memoria storica dell'esperienza. Però Federica magari raccontaci un po' che cos'è Ne vale la pena. Allora, Ne vale la pena nasce nel marzo 2012, infatti quest'anno festeggiamo i dieci anni e diciamo che all'interno della nostra attività percorriamo diverse strade, dalla produzione di articoli scritti dagli stessi detenuti oppure intervistiamo varie personalità, infatti abbiamo intervistato l'arcivesco Monsignore Zuppi, il garante regionale, quello di Bologna e abbiamo e partecipiamo a diverse testate dal sito di Bandiera Gialla, Bologna 7 e a Messaggero Pappuccino e Piazza Grande. Se voglio parlare della mia esperienza personale che inizia nel 2017, mi ha avuto la possibilità di conoscere varie persone con storie e culture diverse e diciamo ho avuto la possibilità di conoscere e di farmi conoscere e uno di loro mi ha trasmesso qualcosa nel loro vincolo. Ora mi rivolgo a te Marcello, tu sei uno dei punti stati della meditazione e hai visto tante fasi. Cosa attorno a quel tavolo non è mai cambiato? Beh, ci sono tanti ricordi e ci sono stati tanti passaggi importanti, anche gli ospiti che citava Federica hanno lasciato il segno, in particolare io credo il Cardinal Zuppi, poi Federica ha raccontato appunto delle nostre collaborazioni, ma avremo modo di conoscerci anche nelle prossime puntate. Come passaggio direi istituzionale e importante fu quando il Presidente, l'allora Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dottor Maisto, ci coinvolse nella stesura di un documento sulla salute in carcere da portare al tavolo 10 degli Stati Generali sull'esecuzione penale, allora organizzati dal Ministro della Giustizia Orlando. E poi in momenti invece più leggeri, come l'estate Dozza, leggeri ma anche impegnativi, nell'estate del 2017 facevamo un laboratorio intensivo in cui intervistano sia il Garante Comunale, il Dottor Antonio Ianiello appena nominato, e l'allora garante regionale, il Dottor Maikelli. E poi nell'estate del 2016 si svolse un'attività un po' proprio davvero più leggera che condusse padre Marcello per, diciamo, la confezionale. Un altro video che racconta la storia della Donaldina. La Donaldina è un nome che non si deve pronunciare in carcere, ma che tutti usano, che fa riferimento a quel modulo di richiesta, questo è il nome corretto, nel quale le persone detenute chiedono qualunque cosa, perché in carcere, inizia questa regola, niente è permesso se non quello che a lui è esplicitamente permesso. E perciò per ottenere qualunque cosa la persona detenuta deve compilare un modulo. Tante volte questo modulo si sa quando parte, non si sa dove arriva. In questa CRIP ci prendiamo gioco di questo. CRIP ci prendiamo gioco di questo. E dopo, ne vale la pena, è il momento dei saluti di fine puntata. Noi vi ringraziamo sempre per il vostro ascolto e vi ricordiamo sempre di iscriverci. Redazionaliberidentro.com Ci rivediamo domani, stessi orari, stessi canali, Icaro TV, Lepida TV in streaming e Radio Città Fujiko. Grazie da me, da Antonella, da Paola Leotti, Enea Flacco e Diana Bota. A domani. A domani. Grazie di aintorni. Grazie a tutti.